Palla tra le linee, cerca lo spunto, Alvaro si butta per incornare, gol, non sbaglia! Un grande colpo di testa in tuffo. Sì, si è tuffato con il tempo giusto, davvero un bel gol. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Occhio alla conclusione, non si fermano più, ancora segno! Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto... Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Molte cose positive oggi direi, soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. E tu, cosa ne pensi della partita, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per via centrale, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Siamo ai titoli di coda. Un ringraziamento a Luca Marcheggiani, come sempre a mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie.